Era finita lì con le Ferrari, ecco le altre macchine d'epoca, una più bella dell'altra, stanno arrivando. Sali e ti metti a taglio come stanno le Ferrari. Buongiorno. Bellissima questa Aston Martin, buongiorno, da dove venite? Dalla provincia di Napoli. Bellissima questa macchina, è quella di James Bond? Sì, non proprio quella, ma il modello è quello. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.